Partirà domenica 29 settembre da piazza Mariusciacca a Patti alle ore 16 la quarta edizione della camminata per la vita con arrivo sul lungomare di Patti Marina. L'evento è stato presentato a Villa Pisani, al tavolo il sindaco Mauro Aquino, gli assessori Cesare Messina e Valentina Campana, il presidente dell'associazione Movimento e Maria Alessandro, la responsabile del centro Nemo Sud Letizia Bucalo e la dottoressa Antonella Saporito. Con un contributo di 10 euro si riceverà l'ormai famosa t-shirt, simbolo dell'evento, e grazie ai singoli contributi l'associazione ha staccato lo scorso anno un assegno da 11.780 euro donati al centro clinico Nemo Sud. Ha sottolineato l'importanza della raccolta fondi anche la dottoressa Antonella Saporito, sia nella sua veste di medico che di familiare, il fratello Francesco e affetto da Slada, diversi anni e da cui nasce l'idea della camminata. A parlare delle attività del Nemo Sud è stata Letizia Bucalo, responsabile comunicazione e raccolta fondi del centro. La Bucalo ha ringraziato la comunità pattese e l'associazione Movimente che nelle prime tre edizioni ha donato al centro per le malattie neuromuscolari messinese quasi 30.000 euro che sono stati destinati alla ricerca scientifica. L'appuntamento sarà adesso per l'ultima domenica di settembre alle ore 16, partenza da Piazza Mario Sciacca e arrivo sul lungomare di Patti Marina dove ad aspettare il fiume della camminata ci sarà la band Armonia, la banda musicale Città di Patti e l'associazione Simpatiche Canaglie, il loro spettacolo di bolle di sapone per una festa di solidarietà e altruismo.